Nella lunga e prolifica carriera di Akira Kurosawa non è raro imbattersi in più di un capolavoro e questo è una cosa abbastanza scontata che naturalmente non la scopro io, ma c'è un film in particolare che a mio avviso è un po' un apice della sua produzione. Parere personale ma neanche poi tanto perché effettivamente parliamo di un'opera che ha avuto degli assensi critici continui e ripetuti. Quindi mettendo un attimo da parte opere comunque maiuscole come Rashomon o i Sette Samurai, Rashomon tra l'altro importante non solo per i suoi meriti solamente artistici ma è anche il film che in qualche modo ha rivelato al mondo l'esistenza di una cinematografia nipponica. Ma dicevo al di là dei tanti titoli che si potrebbero fare io devo dire un amore particolare lo nutro per il film che Kurosawa gira nel 1985 cioè Run che è la seconda incursione nel teatro shespiriano del regista giapponese. Run è l'adattamento ambientato nel XVII secolo del Giappone del relire di Shakespeare. In precedenza c'era stato un altro capolavoro cioè il Trono di Sangue che invece adattava il Macbeth. E del Macbeth forse qualche elemento radioattivo si è riversato in questo run. Penso soprattutto al bellissimo personaggio di Lady Kaede interpretata da Mieko Arada che è una versione alternativa della Lady Macbeth del Trono di Sangue. Ora Run è anche un io direi proprio un film sul potere ecco sono se dovessi così cercare i film più storie terribili sul potere tra i tanti che ce ne sono mi viene in mente proprio Run Mi viene in mente anche il Salò di Pasolini sono due opere naturalmente diversissime ma secondo me hanno in comune proprio la riflessione sulla protervia proprio del potere. Nel caso di Pasolini si arriva a un'equivalenza paradossale cioè il potere come anarchia. Nulla è più anarchico del potere è una delle frasi che risuona nell'ultimo film di Pasolini. Nel caso di Kurosawa abbiamo una riflessione confortata dal bardo e dai grandi classici. La storia quindi del re Lir è nota. L'anziano re in questo caso Idetora il nome Icimongi ecco Idetora il clan il patriarca del clan Icimongi decide di spartire il suo regno tra i suoi tre figli. Qui diventano maschi i figli del patriarca laddove erano tre donne nella tragedia shakespeariana però questo crea le lotte intestine alla famiglia che sappiamo l'allontanamento di quello che è l'unico figlio fedele al padre cioè Saburo il nome nella finzione del film e di fatto la progressiva guerra fratricida che coinvolge gli altri due figli con la significativa mediazione appunto di Lady Kaede che diventa così come una fan fatale da film noir passa praticamente da un fratello all'altro fino a scoprire poi le sue carte nel bellissimo finale e rivelandosi come una sorta di furia distruttrice in parte anche furia giustiziera diciamo contro la crudeltà espressa durante tutto l'arco della sua vita dal vecchio Idetora infatti una cosa su cui Kurosawa torna con molta forza è proprio il fare i conti dell'anziano guerriero con quelle che sono le sue vittime di cui comunque si circonda ecco come in una desiderio patologico continuo di tenere sott'occhio le proprie vittime ecco che Idetora si circonda proprio delle persone a cui ha fatto il male dando le figlie delle sue vittime in sposa ai suoi figli è proprio il caso di Lady Kaede ma anche dell'altra nuora che avrà un esito terribile ma in realtà fedele all'assunto del teatro elisabettiano questo film si chiude veramente nel sangue senza un'ombra di speranza e come spesso succede con Kurosawa anche con una morale diciamo decisamente amara più amara del solito probabilmente una delle caratteristiche credo di Kurosawa come autore e una caratteristica che probabilmente finirebbe per essere stucchevole in una persona di minor talento di Kurosawa e aver minor talento di Kurosawa è anche una delle cose più facili del mondo bisogna dirlo è proprio il fatto che nei suoi film c'è una morale, una morale proprio in senso esopiano cioè la favola si dimostra che ecco c'è proprio un insegnamento morale, il cosiddetto messaggio io penso che Kurosawa sia un cineasta portatore di messaggi forse farebbe arrabbiare un pochettino Hitchcock questa cosa che diceva con grande acume se ho un messaggio non faccio un film mando un telegramma e invece in Kurosawa c'è questa diciamo questa tensione proprio a voler trasmettere in qualche modo un insegnamento ecco e questo run forse trasmette il più oscuro e terribili degli insegnamenti al di là del perire di tutti i personaggi c'è proprio un finale che mette i brividi mette veramente i brividi abbiamo un uomo cieco non vedente sull'orlo di un precipizio quindi incapace di muoversi in libertà perché ogni ogni mossa potrebbe portarlo a cadere alla morte e probabilmente la dissolvenza in chiusura su cui si chiude il film e che lascia aperta questa situazione comunque non ci fa ben sperare ora probabilmente è più facile fare profezie negative che positive visto come l'essere umano ha saputo comportarsi nel corso dei secoli però diciamo che sì insomma ecco qui Kurosawa ci dà lo specchio di un mondo terribile è una chiusura che poi aprirà all'ultima breve ma decisamente significativa fase del suo cinema una fase più minimalista se vogliamo quella di Sogni, Rhapsody in agosto e Madadaio in cui invece forse si vuole diciamo scommettere sull'umanità quindi diciamo che il Kurosawa più terminale se la gioca una fish per una qualche salto di consapevolezza nell'uomo e lo fa tra l'altro forse è un caso non lo so omaggiando il grande Ozu cioè l'altro grande uno degli altri grandi cineasti nipponici della generazione di Kurosawa ma tornando a Ran il film è al di là dei suoi contenuti così cupi è decisamente un film da sindrome di Stendhal una gioia per gli occhi seppure una gioia oscura il film ha almeno quelle che forse sono le scene di battaglia più belle di sempre in particolare l'assedio al castello a metà film dove di fronte agli occhi sconvolti di Detora si consuma un vero e proprio massacro delle sue truppe una scena muta e scandita dalla musica di Toru Takemitsu l'autore della colonna sonora non sentiamo spari, non sentiamo le urla dei feriti quindi almeno fino alla fine della battaglia è una sequenza di una potenza inaudita la guerra forse non è mai stata raccontata con così tanto terribile rigore forse soltanto nella bellissima scena di battaglia che chiude i cancelli del cielo e nella incredibilmente bella scena una scena di guerra contenuta circa a metà di Andrei Rubliov di Tarkovsky che vabbè film su cui nella playlist film della vita voglio tornare perché così in termini di regia è una vetta proprio di tutti i tempi ma restiamo su Kurosawa questa sequenza dicevo di assedio del castello è assolutamente straordinaria nessuno veramente ha raccontato lo sgomento stuporoso di fronte alla morte nel montaggio di questa sequenza c'è un momento in cui vediamo un soldato abbandonato per terra che regge in una mano il braccio che gli è appena stato staccato e guarda con occhi probabilmente ha già raggiunto la follia insomma per separarsi dal dolore che sta vivendo un momento veramente straziante e meraviglioso il tutto osservato appunto dagli occhi del vecchio Idetora che è interpretato magistralmente come suol dirsi ma è il caso di dirlo da uno dei grandi attori feticio di Kurosawa cioè Tetsuya Nakadai che prende il posto di Toshiro Mifune se vogliamo nel cuore narrativo dell'opera di Kurosawa anche se poi Nakadai è presente anche durante il periodo Mifune ecco è presente in grandi film credo che fosse anche nei Sette Samurai tra l'altro quindi insomma un film strepitoso io quando guardo devo dire quando guardo un film di Kurosawa anche quelli che mi piacciono meno perché non è che mi piacciono tutti allo stesso modo insomma alcuni mi piacciono molto meno di altri però io ho sempre l'impressione che le scene che gira Kurosawa non potrebbero essere girate meglio di così ecco è un cineasta che mi dà questa mi trasmette questa sensazione di proprio di superiore competenza tecnica ecco è come se la macchina da presa posizionata da Kurosawa stia esattamente nel posto dove deve stare non potrebbe stare in nessun altro posto c'è qui la scena in cui Lady Kaede si in qualche modo seduce uno dei due fratelli rimasti ed è una scena risolta in un lungo piano sequenza non particolarmente complesso in termini di movimenti della macchina ma comunque tenuto con grande maestria e rispetto soprattutto per le performance attoriali qui Mieco Arada tra l'altro oltre a essere strepitosa come attrice esprime anche una sensualità ferina animalesca assolutamente in linea col suo personaggio che poi avrà anche lì un epilogo tragico ma anche visivamente lusurreggiante infatti verrà decapitata da un po' come la Milady di Dumas verrà decapitata da uno dei luogotenenti di quello che è diventato poi suo marito con uno spruzzo di sangue che va a coprire la parete alle sue spalle è una delle tante invenzioni visive di questo film che ha invenzioni visive straordinarie sia in termini proprio anche semplicemente in termini di composizione del quadro e che appunto sono presenti in ogni inquadratura praticamente di questo run che secondo me è uno dei capolavori massimi di Kurosawa ma anche uno dei capolavori massimi della storia del cinema e più in generale uno dei referti più terribili su quello che è il potere il potere insensolato tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata